una notte di tempesta un pellegrino solitario un destino di morte che lo attende. Un nuovo giallo ci aspetta sugli appennini dell'Italia centrale nella primavera del 1190, un periodo torbido per la politica europea dell'epoca. In terra santa si combatte la terza crociata, il potere spirituale e temporale entrano in conflitto. Il papa e l'imperatore cercano alleanze anche tra gli ordini cavallereschi, ma il forte clima di tensione porta a non affidarsi di nessuno. Tuttavia la storia non la fanno solo i papi o gli imperatori, ma soprattutto il popolo. State in guardia e buona indagine! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!